via libera dall'aula a una mozione a sostegno dei lavoratori di gkn licenziati con una mail nel documento si chiede un passo indietro all'azienda inglese e l'intervento del governo mazzeo atto ignobile che va cancellato marcia indietro di fratelli d'italia sulla mozione in merito al polo siderurgico di piombino la decisione è stata presa in seguito alla volontà di raggiungere un documento unitario per dare più forza all'atto torzelli la proprietà però si dà da fare il lavoro è sacro il consiglio regionale come spesso fatto in passato ha preso una posizione decisa sul caso gkn il presidente antonio mazzeo in apertura di seduta ha messo a votazione una mozione sulla tutela occupazionale dei lavoratori dello stabilimento di campi bisenzio licenziati con una mail nel documento c'è la richiesta del ritiro immediato del licenziamento collettivo e l'attivazione degli ammortizzatori sociali un obiettivo da raggiungere in collaborazione con il ministero dello sviluppo economico gli enti locali e le rappresentanze economiche e sociali accanto a questo c'è un impegno ad attivarsi con il parlamento e con il governo per porre limiti più stringenti alla disciplina delle delocalizzazioni per le imprese che beneficiano di aiuti pubblici valutando tutti gli spazi possibili per un intervento regionale non è una battaglia dei soli lavoratori ma di tutte le istituzioni non basta dare vicinanza e sostegno ai lavoratori questa avvertenza deve essere risolta affermato mazzeo l'atto ha riscosso l'apprezzamento unanime dell'aula con maggioranza e opposizione decise a dare il loro contributo noi abbiamo voluto aprire la seduta odierna discutendo della situazione terribile ignobile in cui sono stati costretti a versare i lavoratori della gkn ieri eravamo tutti al presidio sono felice che tutte le forze politiche abbiano deciso di sottoscrivere di firmare questa mozione che dice sostanzialmente tre cose la prima che quella fabbrica deve riaprire che deve ritornare la produzione la seconda è che gkn torni indietro il fondo merros torni indietro e decisa di ritirare i licenziamenti e la terza al governo al parlamento all'unione europea perché mettano in campo normative che vadano nella direzione di disincentivare le delequalizzazioni guardate la battaglia di gkn delle lavoratrici dei lavoratori è una battaglia di dignità la dignità del lavoro è un'azienda che non era in perdita e che decide così la notte di scappare via di scappare lasciando per strada centinaia di famiglie è qualcosa di ignobile e tutto tutta l'assemblea legislativa con forza l'ha urlato noi saremo al loro fianco non sarà la loro battaglia ma sarà la battaglia di tutti i cittadini della toscana noi chiediamo alcune cose molto chiare il ritiro del licenziamento delle 422 persone chiediamo di attivare subito tutti gli strumenti di sostegno ai lavoratori di attivare percorsi previsti dalle crisi di impresa che saranno poi avrebbero dovuto essere operativi dal primo settembre e che quindi non è possibile in questo momento attivarli quindi abbiamo chiesto al governo un impegno forte l'abbiamo chiesto anche all'europa perché il senso vero è che non ci siano gkn né oggi né domani dalla regione deve arrivare un segnale che queste pratiche non sono consentite quindi dobbiamo attivare tutti gli strumenti necessari perché questo che è il primo grande esempio sia l'ultimo e che si riesca a salvare queste persone che non vogliono neanche venire a un tavolo delle trattative così come ci hanno detto neppure con la regione un sostegno forte unanime a una mozione che impegna il governo a trovare una soluzione urgente immediata a bloccare i licenziamenti collettivi a tutelare le famiglie i lavoratori le persone chiedono dignità chiedono lavoro siamo vicini alla loro sofferenza alla fatica alla loro protesta ma soprattutto serve che il governo faccia presente a livello internazionale alle multinazionali il ruolo importante della localizzazione di queste grandi aziende e non si può ovviamente dalla sera alla mattina chiudere un'attività imprenditoriale non si può dalla sera alla mattina abbandonare la forza lavoro le persone che fino al giorno precedente hanno dato tanto della loro vita la loro anima la loro identità la loro dignità per portare avanti poi gli interessi economici di un'impresa mi serve una risposta immediata e servono anche leggi normative e mi auguro un atto urgente del governo per sospendere procedimenti per discutere ovviamente con l'azienda e costringere ovviamente le imprese che operano il nostro paese a un dialogo costante con le istituzioni tra i banchi lo sdegno si è caratterizzato con varie sfumature ma i consiglieri all'unisono hanno richiamato il governo a muoversi con decisione francesco torselli di fratelli d'italia ha chiesto anche alla fiat che è la principale destinataria dei prodotti di gkn di prendere posizione mentre rene galletti del movimento 5 stelle ha posto l'attenzione sulla situazione delle aziende toscane io ho letto il decalogo che hanno presentato i lavoratori di gkn c'è un punto che è un punto che andrebbe tatuato sulla pelle quando i lavoratori dicono non considerate gkn un caso isolato o una criticità perché purtroppo di gkn ce ne sono state ma ce ne saranno tantissime io ricordo per esempio a firenze abbiamo avuto il caso della seves qualche anno fa che su dimensioni più contenute ma è molto simile cioè aziende che rappresentano una ricchezza del territorio che lo stato nazionale non fa niente per difenderle finiscono nelle mani non di investitori stranieri che sarebbe poco male ma di fondi speculativi che vivono la realtà aziendale unicamente come un più e un meno su un registro bancario e questo porta alla situazione della gkn io sulla gkn non mi stancherò mai di dire però una cosa l'unica peculiarità di gkn che gkn non produce pantaloni gkn non produce magliette che vanno sul mercato gkn all 80 per cento produce pezzi per fiat cioè l'azienda che ha fatto del made in italy il proprio brand in tutto il mondo ed è vergognoso è vergognoso che un'azienda come fiat che negli anni ha vissuto di incentivi di aiuti di sostegni da parte dello stato italiano non abbia speso una parola sulla questione gkn gkn è un caso nazionale non soltanto per il numero di persone di famiglie che sono coinvolte ma soprattutto per le modalità con cui questo è avvenuto che richiama tristemente quanto già successo con beckert che ha visto all'epoca l'impegno del ministro di maio e la viceministra tod è stata immediatamente da noi avvisata e dopo l'incontro che c'è stato fatto ha dichiarato chiaramente che non accetterà una soluzione di questo tipo e cercherà di continuerà a lavorare per far sì che si ritorni indietro si faccia un passo indietro sui licenziamenti e questo è l'impegno che dobbiamo avere tutti come regione e come governo proprio perché purtroppo c'è stato lo sblocco dei licenziamenti cosa che il movimento 5 stelle diversamente da tutte le altre forze politiche e dell'arco governativo ha combattuto significa che dovremmo combattere molto per tutti quei lavoratori che in questo momento sono a rischio del loro posto di lavoro e si parla di circa 15 mila in tutta la toscana sto seguendo anche la vicenda di vitesco per gli interinali e l'attenzione sul lavoro e della viceministra tod e su questo rimane altissima una tematica sollevata anche da marco stella di forza italia che ha chiesto all'azienda di fare un passo indietro come lisa tozzi della lega che ha invocato l'intervento del ministero dello sviluppo economico noi abbiamo sempre sostenuto che quello che è successo non solo è inaccettabile ma è anche uno schiaffo al nostro sistema paese occorre che immediatamente il governo si faccia sentire e non è una questione legata al blocco allo sblocco dei licenziamenti è una questione legata alla dignità dei lavoratori e alla dignità di questo paese non si può pensare per chiunque sia esso un investitore straniero un investitore italiano arrivare nel nostro paese cercare di prendere quello che c'è e poi abbandonare tutti la questione dei licenziamenti è inaccettabile immorale e va immediatamente respinta per questo noi abbiamo chiesto fin dall'inizio che i lavoratori vengano immediatamente riassunti e che si apra non solo un tavolo con quell'azienda ma con tutte le nostre aziende del territorio per far capire che governo e regione stanno dalla parte dei lavoratori stanno dalla parte dell'impresa quando fra questi c'è un rapporto fatto di serietà e di rispetto reciproco è inaccettabile quando uno dei due siano essi i lavoratori o siano essi i proprietari delle imprese pensano che il rapporto è squilibrato rispetto a quello che c'è in campo spetta alla politica a fare da arbitro i temi del lavoro della tutela dell'occupazione sono temi che devono unire le istituzioni che devono manifestare vicinanza soprattutto a tutte quelle famiglie che dall'oggi al domani si ritroveranno a mettere in dubbio un percorso di vita quindi su questo ripeto la politica si deve unire è chiaro che ora c'è una sfida importante una sfida però che chiama la politica alle proprie responsabilità c'è una sfida che parte a livello di ministero dello sviluppo economico il peso della toscana oggi comunque si è fatto sentire a livello istituzionale ma questo non basta c'è la parte statale la questione ministeriale ma c'è anche una parte regionale e per quello che noi possiamo fare sicuramente l'obiettivo principale è uno quello di agire per quanto più possibile sia sotto il profilo della tutela ma soprattutto sotto il profilo nella denegata ipotesi in cui purtroppo il licenziamento dovessero concretizzarsi soprattutto sul fronte della reintroduzione al lavoro la toscana deve fare di più può fare di più sul fronte dell'occupazione e sul fronte della tutela proprio dei dei lavoratori e su questo noi come opposizione siamo disposti sicuramente a fare la nostra parte avanti compatti ritirata la mozione dal gruppo di fratelli d'italia in merito alla situazione del polo siderurgico di piombino l'obiettivo è arrivare a un documento condiviso l'atto intendeva impegnare la giunta ad adoperarsi a livello nazionale perché sia varato un piano strategico per la siderurgia che definisca nel dettaglio il fabbisogno di acciaio nel nostro paese in una prospettiva di ristrutturazione del comparto sia per ragioni di competitività sia per una specializzazione negli acciaio di qualità per le filiere ad alto valore aggiunto dell'elettrotecnica e della meccanica di precisione a spiegare le ragioni del passo indietro è stato il capogruppo francesco torzelli partiamo dal fatto che oggi in aula su piombino sono emerse due posizioni differenti tra fratelli d'italia e la maggioranza la maggioranza ci chiede tempo per ascoltare quello che il 29 luglio la proprietà porterà sul tavolo di discussione noi partiamo da uno scetticismo di fondo che non mi vergogno a ribadire nei confronti di questa proprietà perché ho difficoltà a considerare credibile poi darsi che in futuro mi possa ricredere anzi me lo auguro ma ad oggi ho difficoltà a ritenere credibile una proprietà che non ci dimentichiamo aveva promesso un piano industriale di rilancio di tutto il polo siderurgico di piombino e poi è arrivato a presentare un piano considerato scarno e privo di iniziativa non da me ma di chi di piano industriale se ne intende un minuto prima della chiusura della scadenza per la presentazione del piano quindi non mi sembra abbia dimostrato grande serietà però raccolgo l'invito del presidente Gianni che è intervenuto in aula chiedendoci di fare una discussione congiunta in commissione prima del 29 di luglio quindi per andare poi al tavolo di concertazione forte di un documento unitario del consiglio regionale quindi non ci siamo sottratti a questo invito abbiamo volentieri lasciato che la nostra mozione facesse da atto apripista per questo documento unitario benvenuto a un documento unitario tra i protagonisti della retromarcia Gianni Anselmi del PD che ha seguito da vicino la vicenda incontrando anche la proprietà dell'ex lucchini c'è la volontà di dare spazio anche all'ingresso dello stato nel capitale azionario una piccola quota che garantirebbe capitali freschi e la possibilità di una presenza pubblica utile per gestire la logistica e l'impatto ambientale del sito ha affermato il consigliere per questo sarà fondamentale il tavolo convocato per il 29 luglio al mese con tutte le parti interessate per esprimersi in modo compiuto sul destino del polo industriale portuale Stefano Scaramelli Italia Viva ha invece portato all'attenzione il fallimento della politica industriale su Piombino da parte del governo perché non ha saputo rispondere anche alle esigenze ambientali. Noi abbiamo fatto un passaggio con la proprietà indiana insieme al presidente Gianni nella serata di venerdì e ci pare di aver registrato una intenzione di rilanciare anche alla luce della conversazione che nella mattinata di quello stesso giorno mister Ginda l'aveva avuto con il ministro Giorgetti e con il suo staff e con il sottosegretario Todde. Noi siamo pronti a discutere. La Toscana ha inviato al Mise nello scorso mese di maggio una piattaforma della quale avevamo ragionato anche con i sindacati che prevede una riflessione su tutto il polo siderurgico e portuale di Piombino. Naturalmente ci aspettiamo che questo documento venga preso in considerazione sia dalla proprietà sia dallo Stato soprattutto nel momento in cui lo Stato dovesse confermare questa idea che si riaffaccia di un coinvolgimento, di un ingresso nel capitale della società. Quindi una presenza pubblica a maggior ragione dovrebbe imporre una visione strategica sia sulla produzione dell'acciaio che sulla sua laminazione. Piombino dimostra tutti i limiti della politica industriale che a livello nazionale rischia di essere sempre in secondo piano. In passato quando avevamo governato noi direttamente a livello nazionale la politica industriale, penso anche a Industria 4.0, i grandi investimenti, era ritornata al centro dell'agenda del Governo. Io credo debba ritornare al centro delle agende di Governo perché dietro l'industria c'è il lavoro, ci deve essere rispetto ambientale e va colto all'occasione di fare una riconversione dei processi ambientali dei grandi contenitori industriali e soprattutto Piombino e tutto quello che è collegato col mondo della siderurgia deve trovare un sostegno da parte della regione e del Governo ma soprattutto anche una nazione di grande responsabilità da parte del soggetto privato che comunque sta trovando sostegno da parte delle istituzioni e non sempre ha mantenuto gli impegni assunti nei nostri confronti. Se da una parte l'opposizione ha deciso di portare avanti un lavoro condiviso, dall'altra alcune forze politiche non hanno risparmiato critica al PD sia a livello locale che regionale. È il caso del Movimento 5 Stelle e della Lega che con Irene Galletti e Marco Landi hanno chiesto un cambio di passo per mettere la proprietà di fronte alle proprie responsabilità e richiamare l'attenzione del Governo su una realtà lasciata troppo a lungo in balia di se stessa. Io credo che sia necessario un intervento governativo innanzitutto per chiedere e pretendere una strategia e una pianificazione industriale, un piano finanziario economico serio e stabile perché abbiamo già visto tutta la grande fiducia che era stata data precedentemente a Rebrab come è stata ripagata. In questo momento dobbiamo chiedere all'azienda che presenti appunto un piano finanziario industriale serio, credibile perché in questo momento stanno lavorando a intermittenza con i semilavorati che arrivano, non c'è assolutamente sostenibilità e come se non bastasse si sta tenendo in scacco anche tutta l'area portuale e questo ormai da troppi anni. Il PD ha fatto molti proclami ma non hanno risolto ancora niente. Quindi a questo punto l'unica soluzione è che con una strategia dell'acciaio nazionale si metta all'interno anche Piombino e si passi in questo momento a un rilancio che come ho detto dovrà prevedere anche l'attività del porto. Io credo che dopo una quindicina d'anni dove abbiamo visto l'amministrazione del PD a livello comunale e regionale dobbiamo veramente avere una concretezza e un cambio di passo. È in fase di dotazione un piano strutturale da parte del comune Piombino che prevede sia un'area di riconversione sia un'area dedicata al forno elettrico e al mantenimento di una parte del polo siderurgico. Credo che è necessario visto anche quello che apprendiamo dalla stampa e anche gli incontri che ci sono stati dal Ministero dello Sviluppo Economico e GSV e le amministrazioni regionale e comunale di Piombino. Credo che dobbiamo arrivare ad una concretezza di un progetto da un lato per la riconversione dove si può inserirci all'interno del recovery fund e quindi creare un progetto concreto e quindi vogliamo e abbiamo chiesto in aula massima trasparenza e chiarezza da parte dell'amministrazione regionale su un progetto concreto.